La padrona di casa di Domenica In ha avuto due figli dai precedenti compagni, Elisabetta e Paolo. Del secondo figlio di Mara Venier non si sa molto. Ecco chi è, la «signora della Domenica», ha avuto una vita molto movimentata, soprattutto quando era giovanissima e non lo ha mai nascosto. Ad appena 17 anni Mara Venier si è sposata con il fidanzato Francesco Ferracini, dopo aver scoperto di essere rimasta incinta. La sera stessa delle nozze il neomarito parte per Roma per tentare una carriera da attore e lei lo raggiunge nel 1971, iniziando subito a lavorare come fotomodella, riuscendo così a prendere in affitto una casa e poter accudire la neonata figlia Elisabetta. Sempre in quest'anno, sul set di Diario di un Italiano, conosce Pier Paolo Capponi, dal quale avrà il secondo figlio Paolo, nel 1970. Sono anni molto impegnati per la giovanissima veneziana, che come a lei stessa ha messo tanti anni dopo, in quel periodo era più concentrata sulla sua carriera che a fare la mamma a tempo pieno. Mara Venier, come ha recuperato il rapporto con il figlio Paolo, il rapporto con il secondo genito si è quindi un po' raffreddato, e dopo essersi separata dal collega attore, il bambino è stato cresciuto da questo. Fortunatamente con il passare degli anni i rapporti si sono addolciti e in particolare dopo un evento ben preciso. Poiché anni fa Paolo è diventato padre di un bel bimbo, e ciò ha riavvicinato madre e figlio, con la prima che ha sempre ammesso di avere un debole per il piccolino di casa. Oggi i due sono uniti e a volte Capponi appare in alcune foto della conduttrice, come si può notare dalla foto sopra, che lo vede a sinistra, mentre alza con gioia un calice di vino bianco, un rapporto ricostruito e oggi più forte che mai. Una gioia per la Venier, che oggi può contare su una famiglia allargata e resa felice dai nipotini, ai quali è molto appena.